ehm beh io lo stagio te lo faccio fare però tieni bene a mente è facilissimo prima fai uno schizzo a mano poi riporti le misure sul computer gos e le invii via mailium a info chiocciola publiem punto net e loro subito in giornata ti stampano i casseri che ti servono che cosa sono i casseri che cosa sono i casseri i casseri sono involupri dentro cui devi effettuare il getto per ottenere la forma che vogliamo realizzare di che materiale sono fatti i casseri piccio di che materiale sono fatti i casseri il e ps il e ps e ps sempre e ps la creatività progettuale non ha limiti col sistema computerizzato di taglio a controllo numerico delle ps in un'unica soluzione riduce i costi di produzione migliora la qualità dei manufatti velocizza le operazioni costruttive e rispetta l'ambiente e le norme tecniche vigenti publiem sistemi innovativi per l'edilizia visita il sito sempre un odissea e con te